Giorno di riposo a Barcellona per il round robin della Louis Vuitton Cup. Luna Rossa ha già conquistato l'accesso alla semifinale e si trova in testa alla classifica dopo un percorso netto di 5 vittorie e 0 sconfitte. La barca italiana dovrà affrontare nelle regate di domani American Magic e Britannia con l'obiettivo di conquistare aritmeticamente il primo posto e avere così il diritto di scegliere la propria avversaria per la semifinale. Da decidere anche chi sarà eliminata tra Ling e Orient Express con i francesi che al momento sono in ultima posizione.